Non è finito Non potrà più morire Proprio morto Questo è il mio amico che mi sta aiutando Che sarebbe Albi Vi consiglio il suo canale È una figata Ciao Dai aiutiamolo Scusate se sono in creative perché È un casino del server Oddio Gli ero te volevo farlo in survival ma Non l'abbiamo fatto in survival Eh già è la vita Comunque boh niente Oggi volevo solo farvi vedere Com'è la devastazione Per farvi capire A questo mio amico che la sua casa è stata distrutta E di ritornarne a servire Più presto se la vuole ancora Viva Ed è con questo che vi saluto E voi rimanete con me Perché adesso fra poco mi sa che farò anche Il nuovo episodio di Minecraft Oddio aspetta che c'è Sto mettendo a rogo il mio amico Sto incendiando il coso Dai Sono un bastardo Guarda come brucia Adesso scommettere che brucia Mamma mia Si è fatto male Vabbò Comunque boh niente Ci rivediamo con l'episodio di Chaoscraft Voi rimanete sul mio canale Iscrivetevi E commentate Anche se non c'è niente da commentare E non commento questo video Salve a tutti E arrivederci Grazie mille Allora Ciao Ciao Grazie mille Grazie mille